Noi cogliamo l'occasione da un lato per definire i nostri piani e dall'altro però per sentire anche le esigenze e le aspettative del territorio. L'agenda digitale della Toscana è ricca di appuntamenti e così dopo Lucca, Prato e Grosseto nell'ultima tappa prima della pausa estiva è arrivato il momento di Livorno e delle Smart City del Mare. L'obiettivo è avvicinare servizi ai cittadini e viceversa. Per questa ragione anche l'arcipelago è coinvolto nella prima fase del progetto che prevede entro un anno l'attivazione della banda ultralarga anche nei comuni delle isole e il Beggiglio comprese. Il compito della regione è trasferire, coordinare questo lavoro, trasferire le buone pratiche che si fanno nelle città più grandi anche in territori più piccoli, per esempio le isole, per esempio l'arcipelago, per esempio tanti comuni che sono in questa provincia e su tutta la costa toscana perché esiste anche una bella chance che avviene dalle Smart City del Mare, cioè se il mare riesce ad avere infrastrutture digitali sempre più all'avanguarda ovviamente ne trova un grosso beneficio dal punto di vista dello sviluppo e quindi prima arriviamo anche rispetto alla concorrenza tra virgolette di altre lesioni che danno sul mare e prima riusciremo a dare sviluppo e quindi avere un vantaggio competitivo. La tappa livornese di Toscana Digitale, tour promosso dalla regione insieme a Danci, Cispele e Fondazione Sistema Toscana, si è svolto non a caso nel cisternino di città, struttura neoclassica che a suo modo in passato ha rappresentato l'avvento della modernità che nel Settecento corrispondeva alla fruibilità dell'acqua per tutti, oggi invece parliamo di infrastrutture digitali e banda ultralarga. Un approccio alla Livorno Digitale in termini di servizio pubblico, la rete è il primo servizio pubblico per accedere a tutta una serie di applicazioni, informazioni, dati eccetera e comunque per accedere alle pubbliche amministrazioni, quindi grande attenzione al servizio di accesso alla rete come servizio pubblico essenziale. Wi-Fi pubblico, più servizi, maggiore accesso alla rete, ma la connessione per l'assessore livornese non è sufficiente a suo dire, particolare attenzione deve essere dedicata ai contenuti. Non si inizia dal contenitore, mai, mai più, si parte dal contenuto, aggregare dati, aggregare informazioni, abbiamo fatto un lavoro immenso di digitalizzazione degli archivi anche grazie ai lavori di pubblica utilità che speriamo caldamente che siano rinnovati su un bando prossimo della regione, abbiamo messo insieme dati, aggregato banche dati, verificato i dati sia per le nostre attività interne all'amministrazione attraverso per esempio il software Serpichino che è in uso al servizio dei tributi, sia anche attraverso il potenziamento del sistema informativo territoriale. L'informazione deve essere geo-rappresentata, deve essere resa pubblica, deve essere l'operazione vera di marketing territoriale che fa un comune. E così, oltre alle idee, a emergere sono le buone pratiche territoriali. Sono tante, varie, utili e soprattutto, almeno questo è l'auspicio, trasferibili dalle grandi città fino ai piccoli comuni. Anche per il mio mestiere vi cito ad esempio la straordinaria pratica del comune di Prato che per informare la comunità cinese lavora su WeChat, che è un social chat cinese, quindi utilizzato molto da quella comunità che in realtà non utilizza i nostri strumenti classici da Facebook a Twitter a Instagram e gli altri. Abbiamo avuto ad esempio anche la Fondazione Carnevale di Viareggio, quindi un altro tipo di ente, un altro settore, altre tematiche, però molto portati sui social network e quindi come dire, sia sulle informazioni, chiamiamole così, di emergenza, nel senso di cambi di programma, cambi di orari, ma anche, come direte, sulla promozione del territorio, così come anche il Pucciniano, sempre per parlare di Lucca, sempre sul lato turistico della promozione dei territori, del marketing territoriale, che non significa solo turismo, ma significa anche economia e anche sociale, abbiamo trovato delle ottime pratiche in Maremma, tipo Love Maremma ed altre, anche la stessa Camera di Commercio di Grosseto. Attorno alla nuova comunicazione c'è un gran movimento di idee, di pensieri, di progettualità. Questo tour serve anche a capire come migliorare, non solo i servizi, ma anche la qualità di vita dei cittadini e c'è un tema, quello della razionalizzazione, che va incontro a questo rinnovato obiettivo. Stati per tanti anni, come pubblica amministrazione, a lavorare ognuno nel proprio orticello e tutto questo è chiaro che comporta non solo un, diciamo, un peggior modo di lavorare all'interno delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto questo si ripercuote, soprattutto, sui servizi ai cittadini, ai quali cittadini spesso vengono chieste informazioni che invece l'ente in qualche modo sa che magari andando verso, chiedendo o all'ufficio accanto o all'ent accanto lo potrebbe trovare e quindi, diciamo, viene fuori che addirittura paradossalmente si complica la vita cittadina piuttosto che semplificarla. Quindi il tema della razionalizzazione è importante anche da un lato economico, ma soprattutto appunto per il fatto che nel momento in cui si decide di passare tutto a digitale è importante e fondamentale che i servizi online siano davvero sempre online, quindi avere un luogo dove questi servizi sono installati, sempre raggiungibile, H24 e che ad ogni ora del giorno, del sabato e della domenica venga in qualche modo garantito il funzionamento e l'altro tema fondamentale è il tema della cyber security e della sicurezza informatica che sempre di più ha bisogno di grandi investimenti e quindi è impensabile che enti piccoli possano adempiere appunto a questi obblighi.